Buonasera. Buonasera a tutti. Semplicemente per dire perché da quando ho iniziato Gomorra se vado in giro e dico che sono napoletano la gente non mi crede? Forse perché in Italia ci vedono tutti come nella fiction? Può essere. A me è successo così ma quindi praticamente tu sei di Gomorra? Sì Gomorra centro. Proprio là non ti puoi sbagliare. Ma sai dall'aspetto non l'avrei mai detto c'è anche la giacca e vabbè perché mostro in borghese. Poi quando torno nel quartiere mi metto la divisa quello è obbligatore che ti credi scusa. Sì vabbè adesso vuoi farmi credere che rispettate pure i semafori. Ma i semafori? Ma che bella invenzione. No da noi funziona così guarda tu passi se senti il rumore e ti fermi. Se non senti il rumore vai avanti se è stato fortunato. Che ti credi? Scusami. E mica siamo arrivati a questo noi. Sì vabbè ho capito. Tu vuoi nascondere la verità. Dalle tue parti non puoi avere un motorino nuovo che te lo rubano. Noi innanzitutto i motorini li rubano in tutta Italia. Certo anche da noi. Solo che noi ci siamo organizzati. Abbiamo inventato ed esportato il famosissimo cavallo di ritorno. Efficientissimo. Cioè i lati te lo rubano il motorino. Te lo custodiscono. Te lo mantengono pulito. Ti chiamano. Ovviamente il servizio si paga. È capitato col mio motorino. Vado all'appuntamento. Questi mi guardano e fanno allora hai portato i soldi. Ho detto aspetta dammi prima il motorino. E loro ma perché non tieni fiducia ma per chi ci hai preso? Giustamente. Che gli dico? Se vuoi il motorino ci devi dare 1.500 euro. Aspetta siamo della stessa zona. Fammi un po' di sconto. Che ne so 2.50. E lo sconto 2.50. Quello in motorino è nuovo. E lo so è mio. Lo sto pagando ancora. Mi mancano due rate. E ti prego. Ho voluto spezzare questa catena. Sono andato direttamente in questura. Ho detto obbligati. senza che la portiamo lunga qua. Mi hanno chiesto 1.500 euro per il mio motorino. Ma guardate è beata a te. A noi ci hanno chiesto 3.000 per la gazelle. Stiamo uscendo a piedi. Non mi fai pensare. Siamo tutti nervosi. E così. Allora succede che tu fai queste denunce con questi motorini che te li rubano. Allora ho detto ma sai che c'è di nuovo? Io voglio rimanere in questa terra perché in questa terra ci sto bene. Perché in fondo non vedo il Vesuvio. Ma è bello sì. Grazie.